Quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo scritto con l'indipendente, quindi quello che dicevi te del contratto, se lo andiamo a certificare, il contratto diventa non blindato ma comunque molto più protetto, conserva le prove dei tuoi adempimenti, hai fatto quello che dovevi ma se hai conservato le prove e le rese immediatamente fruibili, rendi molto acevole l'attività di chi poi ti dovrà difendere. Quindi per quanto riguarda l'impresa non deve mai diventare un gigante di perdita di argilla ma assicurare un sereno raccordo.